franco genzale presenta la siringa di mila martinetti una spruzzata di spray color nero per scrivere merde sull'ingresso del circolo pd libertà e partecipazione nel rione santomaso ad avellino il segretario franco russo ha commentato con parole durissime temo ha detto che tutto sia collegato al clima di odio sia a livello nazionale che locale nei confronti soprattutto del partito democratico che ormai non è più nel cuore delle persone come dagli torto infatti a giudicare da quel merde scritto a carattere cubitali il pd non è più nel cuore ma più propriamente nel culo delle persone